L'errore arbitrale, l'erroraccio di Michelin che avrebbero ammazzato non solo l'Aquila ma anche un campo basso, un toro e poi quello che volevi, la reazione mentale, la cattiveria agonistica con Galesio che era arrivato a fine serbatoio e voluto rimanere in campo, lo scatto di Tavoni negli ultimi minuti e poi il risultato più bello con i tifosi che vi hanno aspettato e si è andato anche tu ad esultare. Hai detto tutto, ma io ero convinto, non ci avevo nemmeno un attimo, anche domenica, domenica eravamo arrabbiatissimi per la prestazione che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre possibilità, senza nervo, abbiamo fatto un errore che purtroppo fa parte, l'ho detto domenica, del percorso di crescita, abbiamo sottovalutato una partita che per noi poteva sembrare molto facile, invece il calcio non si può regalare niente a nessuno. Oggi siamo venuti qua, abbiamo fatto una grande settimana, l'abbiamo preparata bene, abbiamo saputo soffrire anche nei momenti dove loro ci hanno messo un pochettino in difficoltà su queste seconde palle, sui tiri da fuori, però siamo stati veramente forti, forti sotto tutti i punti di vista, siamo andati in svantaggio su un calcio d'angolo assolutamente errato. Abbiamo preso gol su un altro piccolo errore del portiere, ma poi il portiere mi è piaciuto perché poi si è ripreso e ha fatto veramente una grande parte. Ha risettato l'errore a livello mentale. Non ha dovuto fare dei grossissimi interventi, però è stato grande, sono contento per Matteo, ma sono felice anche dell'altro portiere perché sono bravi tutti e due, sono due domenacinque, possono sbagliare. Per oggi mi è piaciuto proprio per la squadra il carattere, la voglia, abbiamo cambiato modulo, abbiamo cambiato interpreti, abbiamo portato a casa una grande vittoria che non ci deve far diventare assolutamente fenomeni, però sicuramente, le ho detto già ai ragazzi, che da questa vittoria bisogna costruire questo campionato, quindi ci buttiamo alle spalle domenica scorsa e ci prepariamo un'altra settimana importante dove ogni partita la dobbiamo giocare in questo modo. Mister, in settimana ho scritto più di una volta che questa squadra ha bisogno dello smoking, ma spesso e volentieri quando c'è bisogno di lottare, di cacciare fuori la rabbia agonistica, quella giusta e corretta, deve indossare la tuta da lavoro. Negli ultimi minuti si è dimostrato questo, la voglia di riportare a casa, un risultato importante. A proposito di portieri, lei non l'ha visto ma l'ho visto io e ci sono le immagini di Reteotto a confermarlo. Il primo ad abbracciare Michelin è stato Raffaelli a fine gara. Sì, ma loro stanno sempre insieme, sono grandi amici. Oggi quando li ho comunicati che non giocavo è stato il primo a sostenerlo, per tutto il tempo del riscaldamento gli è stato vicino. Quindi quando sono grandi amici, oggi ho visto veramente un grande spirito di gruppo, che è la cosa più importante, perché poi se vuoi costruire qualcosa di importante devi costruire prima il gruppo. Oggi ho visto veramente 22 anime che stavano qui a Campobasso a soffrire tutti quanti insieme. Poi è logico che ci siamo dovuti adattare anche per problemi, perché non avevamo San Rizzo all'ultimo momento e Jonathan è entrato e si è fatto male, quindi non avendo più esterni abbiamo dovuto cambiare. È entrato bene Giovanni Alessandretti e sono contento, perché poi all'esordio è entrato anche bene Persiani. Sono contento, dai questo è lo spirito che dobbiamo avere. Ripeto, non ci dobbiamo assolutamente montare la testa, abbiamo sempre l'umiltà di aver vinto una partita contro una grande squadra, perché questa è una grande squadra, un grande stadio, grande pubblico, perché poi davanti c'è veramente tantissima gente. Quindi il valore di questa vittoria è ancora più grande. Ti rispondo come sempre, è stato il gruppo, che ti devo dire, giocatori che hanno grossa qualità, oggi si sono messi a servizio della squadra, anche correndo all'indietro, contrastando, andare a saltare di testa. Posso parlare di Banegas, posso parlare di Bacio, fin quando è stato in campo, quando è entrato Jonathan. Questi sono uguali, che è alto un metro è bassissimo il ragazzo, ma quando va a saltare c'è una tigna. Questo deve essere quello che ci deve costantare a distinguere. E poi, ripeto, il gruppo, perché poi abbiamo passato una settimana veramente difficile sotto l'aspetto mentale, perché poi venivamo da una grande partita a Chieti e abbiamo perso, abbiamo fatto una partita in colore e abbiamo perso. Oggi abbiamo dato una grande risposta prima di tutto a noi stessi, perché poi le risposte ci dobbiamo dare noi. Non ero, ripeto, preoccupato domenica, ero arrabbiato, perché poi c'ho dietro, e lo tengo a sottolineare, una grandissima società che ci sostiene giornalmente, non ci fa mancare niente. E ci ha dato serenità in queste due settimane di sconfitte, perché poi non viene a fare una partita del genere senza che se non hai dietro le persone che ti sostengono. Ma contro tutto e tutto è vero, perché se pensiamo alla partita di Chieti, qualcuno dirà che io dopo piango, ma io non voglio piangere, però gli errori purtroppo sono sotto gli occhi, fanno parte di un campionato. In questo inizio sicuramente qualcosa da recuperare da qualche parte l'abbiamo nel cassetto, però andiamo avanti, oggi abbiamo vinto anche contro qualche errore, ma dobbiamo uscire forti. Ho detto ai ragazzi che l'arbitro purtroppo viene ad arbitrare e credo che viene sempre con la buona fede, viene sempre per cercare di farci divertire a noi. Delle volte sbagliano, purtroppo in questo inizio di campionato hanno sbagliato molto verso di noi, però niente polemica, vuol dire che qualche volta, speriamo, in futuro sbaglieranno nel nostro favore.